Good morning Juventus ho deciso a partire dal video di ieri che ho fatto dedicato alla Juve che non sarà più in Serie A di seguire l'onda delle Cassandre e di quegli ettatori che stanno diciamo da tutte le parti dando per scontato che la Juventus potrebbe essere spedita in Serie B con le penalizzazioni. Allora si spiega il titolo di questo mio Good morning, scontro salvezza e sì perché intanto apro una parentesi avete visto che schifo per noi Juventini un weekend senza la Juve bruttissimo guardate che se fanno tanto ad abituarsi i Juventini a non avere la Juve perché in qualche maniera ci penalizzano poi dopo ci divertiamo dopo con lo share, incomincieremo a sentire elementelli di Sky, elementelli di The Zone, abbiamo dovuto licenziare personale perché non c'è più interesse per il calcio, il calcio non è più quello di una volta e vedrete che facciano i furbi con la Juve che poi vediamo chi è alla fine, ride bene chi ride ultimo e l'ultimo dice Nick Carter chiude la porta. Allora signori perché parlo di scontro salvezza? Perché domani domani sera andremo a Salerno. La fiducia che ripongo nel nostro tecnico è prossima allo zero nel senso che non sono convinto che si sia reso conto che lui deve fare punti su punti su punti perché altrimenti non avrebbe messo in campo quello schifo di formazione che ha messo in campo contro il Monza. Quell'invenzione di De Sciglio dopo un anno che non giocava, quel Kostic messo lì terzino che lo fa sfiancare e poi è chiaro che dopo arriva sul fondo e non azzecca un cross. Quindi sperando che rinsavisca sulla via di Damasco, anzi sulla via di Salerno, mi auguro che la partita contro la salernitana che già all'andata ci ha scippato tre punti, lo ricorderete, perché Candreva teneva in gioco tutta la Juventus, ma lì il VAR era cieco, era cieco. Quando fa comodo la Lega il VAR è cieco, quando invece devono andare addosso la Juventus ci vede benissimo, proprio vede anche cose che non ci sono. Per cui la partita con la salernitana, così come quella successiva con la Fiorentina, così come quella successiva col Toro e vi discorrono tutte le partite che di volta in volta affronteremo, sono tutte partite fondamentali. Non le chiamo finali perché noi in finale facciamo schifo e vogliamo portare Beronia. Però dico che sono tutte partite fondamentali. Noi dobbiamo fare più punti possibili, non dobbiamo fare tabelle o calcoli, dobbiamo fare più punti possibile. Perché se quel coglione di giornalista, che ripeto mi piacerebbe sapere come fa a sapere certe cose, ha ragione, ovvero che oltre ai 15 che ci hanno tolto ce ne tolgono altri, facciamo conto che siano veramente 20 come ha detto lui. Noi, adesso mentre sto registrando il video, che è lunedì, avremmo tre punti. Tre punti. Quindi, sono un po' pochini, no? Perché ne ha di più la credomonese, ne ha di più la Sampdoria, non per non parlare delle altre. Di conseguenza, signori belli, domani sera prepariamoci a una partita importante. Una volta era contro l'Inter, contro il Milan, contro la Roma, contro la Lazio. Adesso, invece, è contro la Salernitana. Poi ci sarà la Spezia, poi ci sarà l'Empoli. E vi discorrendo fino alla fine, che è il nostro motto. Good morning, Juventus!